La tensione si taglia a fette oggi, a un'ora della partita. Abbastanza, abbastanza. Con il fisico in tribuna, con il cuore laggiù, con i tuoi camicini della curva nord. La partita comunque vale un evento, si vive abbastanza male la vigilia. Speriamo che quest'ora passi stretta. Oggi però c'è il ruggito della nord, che fa la differenza. Oggi penso che sia un ruggito totale, è uno stadio che vuole vincere in tutti i settori. Penso che ritorniamo indietro un pochino con gli anni, vedremo il curi delle stagioni d'oro. Il resto è inutile, aggiungere altro è inutile alla vigilia, no? No, no. Meglio adesso soffriamo in silenzio. Grande Carlo!